Fabio De Luca, pochi giorni fa hai organizzato una partita in memoria di Alberto Massa, talent scout, grande figura del calcio salaritano, scomparso a febbraio. Avete giocato al terzo tempo, erate in tanti per ricordarlo. Sì, è stata una bella manifestazione. Innanzitutto colgo l'occasione per ringraziare tutti i ragazzi che sono venuti e che ho letto nei loro occhi la gioia di esserci al cospetto di un memoria, di una persona che ha dato tanto al calcio salaritano, a tutti i ragazzi che sono passati per la giovane Salerno e anche quelli che non avevano mai giocato con lui. Sono venuti con piacere e quindi è stata veramente una bella partita, una bella festa, anche se era un momento abbastanza triste per noi, soprattutto noi della famiglia e quindi però sono contento perché è andato tutto come avevo sognato sin dal primo giorno che avevamo cercato di organizzare questa partita. Il ricordo più bello che hai di lui, l'insegnamento più forte, più bello che ti ha lasciato? Ah, guarda, ce ne sono tanti perché chiunque conosce la mia storia sa che io sono cresciuto con lui, al di là della questione calcistica sono cresciuto come uomo con lui, fino a, io l'ho conosciuto a 12 anni, cambiai squadra dall'Isidoriano a passare alla giovane Salerno e da quel giorno non mi sono mai più staccato da lui, ecco, fino a diventare come un figlio, più di un figlio, quindi di ricordi ne ho tanti e faccio fatica anche a parlarne perché veramente mi ha dato tanto come mi ha dato tanto agli altri ragazzi e quindi sono tantissimi bei ricordi e porto di lui veramente dentro tutti gli insegnamenti che mi ha dato, quello che sono poi diventato, ma non a livello calcistico, a livello umano, poi tutti lo sanno che è solo grazie a lui, ecco. Grazie a tutti.